Questo sta da ripicare, sta da ripicare. Ma Giovanni che dici? Giovanni sta in vacanze, è in Calabria. Aspettaci, fammi riprendere a tutta questa bella gente. Tutta questa bella gente si devono riprendere. Ciao, bello. Gennaro, vorresti una bella insalata di riso? No, ma assaggio soltanto se c'è qualcosa, tipo una pizzetta. No, ma non ce la faccio, chi ce la fa a mangiare? Questo bello gnocco. No, assaggio soltanto un po' di pizzetta. Ma giusto per stare in vostra compagnia, un po' di vino. Ma mangio prima un pochettino, una cosa così. E' un po' di pizzetta. E' un po' di pizzetta. Ue. Fate un po' di pizzetta. Io ho bisogno di pizzetta. Quali è un po'? Più due. Non so più due. E chi va qui? No, ma ti rimaste un po'. E tu pare? No, va bene, va bene. Non ci lascio, non ci lascio. Non lo so. Apri un attimo di pasticata. No, ma non ti preoccupate! No, devi fare un po' di tene. Lori, sul muretto devi vedere. Ma ti vedi una foto? Ma chi? Il cammino. Bele gatta, per le prossime lezioni comunali abbiamo pensato una foto in perizona. Perché siamo a vedere. Pensiamo di fare una strategia comunicativa di questo genere. Se ci presentiamo le comunali, perché siamo sotto controllo. Pensiamo di cambiare la strategia di comunicazione. Niente Santini, gatta in perizona. No, serio, serio no. Bravi, capite? Non devi mai. Ssssss. Bello, bello. Grazie. 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 Scusate che vi ho interrotto. No. 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 No, lo so. No, ma è... una cosa sempre... A questo orario, diciamo, comunque è piacevole perché si sta prezziando. Sì. E' pomeriggio oggi. E' pomeriggio un po' sacrificato. No. 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 Grazie ragazzi. Non vi disturbo, eh? Vi lascio alle vostre chiacchiere. No. 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 Anacardi, due Anacardi! Anacardi, due Anacardi! Due Anacardi! Due Anacardi, ma sai che... Non c'è! Non c'è! Non c'è! Io non so come hanno togliato le cose! Era tutto! Solo ho visto che ho visto tutto! Mi siete spappeggiati tutto! Avete lasciato farci bruciare tutto! Siamo fatti mangiati! Sì, ma eravamo tutti! Siamo con i tavoli coltelli, tutti! Tutto! Chiaramente! Non è male che fa stare attenzione! Ma tu... Ma tu hai mangiato proprio tutti! Due Anacardi! Ma due Anacardi! Due Anacardi! Due Anacardi! Come? Stanno Anacardi! Fatti lo hai! Due Anacardi! Un Anacardi! L'Ucello Pantarotto! A Urta Urta Urta! A Urta Urta! Ma che faccio? Mettiamo la mano! 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 No! Che me mangiato? Tu quanto? No! Non è male! No! Ma tu qua l'occhio! Sì! Non è male! No! 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 Una bella pizza! Ci vediamo alla prossima! Ah! Una bella caprice! Prima! Prima! No! 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 Questo è per chi soffre di ceriachia! Questo è per chi soffre di tumore! No! 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 Ma la mia vita! No! 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 Buon! No! Si lì! un pochino pezzettino, poche caprese e poche pizze, tutto fuoco, e poi a Maria Canofla è indifferente, però lasciamo prima alle gentili signore la precedenza, alle gentili signore, lasciamo la precedenza, Maria Canofla che si va a focaccia, a rimarrà a comando, una grande fettica, una ricca caprese, mamma mia, grazie! Grazie a tutti, grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!